Un abbraccio che continua da oltre 55 anni. Il legame tra l'Accademia delle Belle Arti di Urbino e quella di Caetania è ancora forte. Nell'esempio lampante è la mostra 1968-2023, tra figurazione e segno, curata da Laura Ragusa e nella città etnea fino al 17 marzo. 70 le opere raccolte che scandiscono la storia dell'Accademia siciliana. Tra queste c'è molto di Urbino, un'intera sezione. Un'intesa, nata grazie a Annuncio Schavarrello, il fondatore, che chiamò alla sua Accademia ad assistere e poi a insegnare, proprio artisti della città ducale, tanto apprezzati anche da Sciascia. Pino Polisca, Luigi Toccacieli, Fabio Bertoni, Filippo Ceccacci, qui si susseguirono con entusiasmo. Sono anche affascinati all'idea di lasciare la provincia Urbinate per andare verso un sud che allora aveva un sapore veramente di esotico, perché la Sicilia era estremamente lontana. Ricorda Polisca, ad esempio, che allora ci volevano più di 24 ore di viaggio per raggiungere Catania. Non esisteva ancora neanche l'autostrada Messina-Catania. Questi artisti, arricchiti a Catania con la loro esperienza, tornarono a casa con uno sguardo più profondo e brillante, valorizzati a loro volta. Dentro questa circolarità, dentro questo abbraccio, probabilmente possiamo avere delle nuove intuizioni sullo sviluppo nazionale e internazionale della grafica attraverso le sue grandi scuole manifestate appunto dalle accademie, in questo caso di Catania e di Urbino.